Anche oggi è andata avanti la campagna di donazione organizzata dalla scuola allievi agenti della Polizia di Stato Giulio Rivera di Campobasso in adesione all'iniziativa Maratona del Donatore giunta alla settima edizione e sostenuta dalle scuole della Polizia di Stato il messaggio forte dell'evento, la sensibilizzazione alla donazione ancora più forte perché è lanciato in prossimità delle celebrazioni del santo patrono della Polizia San Michele Arcangelo Rappresento come presidente della regione della sezione Molise l'associazione Donatori Nati che è un'associazione nata nel 2003 di intesa con la Polizia di Stato e adesso fa parte dell'associazione Donatori Nati anche il Corpo dei Vigili del Fuoco nasce sullo spirito che caratterizza l'istituzione della Polizia di Stato che è quella appunto della donazione e del servizio al cittadino e al paese e quale migliore dimostrazione di servizio se non quella di donare in questa scuola abbiamo avuto circa 100 ragazzi che doneranno quindi è un numero particolarmente elevato perché è necessario sensibilizzare tutti i cittadini donare è importante oltre 100 allievi dell'istituto frequentatori del 223 corso per allievi agenti e del quinto corso per vice ispettori tecnici stanno donando il sangue in coerenza con i valori su cui si fonda la Polizia di Stato in particolare con l'impegno al servizio del paese nello spirito del motto esserci sempre le postazioni di donazione sono allestite con la collaborazione dell'associazione donatori nati della Polizia di Stato presso il piazzale d'armi della scuola questa iniziativa maratona del donatore è stata voluta dall'ispettorato delle scuole della Polizia di Stato per sensibilizzare tutti gli allievi agenti che in questo momento stanno frequentando un corso di formazione ed è caduta proprio in occasione della festa di San Michele Arcangelo nostro santo patrono pensi che in questo momento su tutto il territorio nazionale è in atto il 223 corso di formazione per allievi agenti che vede impegnati 1940 allievi agenti soltanto 178 sono qui presenti a Campobasso ed un centinaio di loro hanno deciso di avvicinarsi a questa campagna